Basta con questa cultura buonista dove noi saremmo delle persone che non hanno nessuna tendenza aggressiva, che non provano rabbia, che non provano sentimenti ostili verso gli altri. Non è vero. Oggi affrontiamo un tema delicato e doloroso, la cultura dello stupro. Oggi è esploso, per così dire. Penso che nessuno abbia ancora capito bene cosa sta succedendo. Ci hanno provato in tanti, dalle femministe fino alla psicoanalisi, passando per tutte le forme della psicologia. Ma in realtà a me non sembra che le idee siano sufficientemente chiare a questo riguardo. Quello che è chiaro è una cosa, e questo è fondamentale. C'è una cultura della violenza, maschile, femminile, non importa. Violenza è violenza. C'è la violenza dei rapporti, c'è la violenza sul posto di lavoro, c'è la violenza nelle coppie, c'è la violenza coi figli. Ma l'elenco potrebbe essere lunghissimo. Chiariamo un punto per quel che riguarda la violenza nei rapporti sessuali. Intorno a questo c'è molta confusione, perché si confonde il rapporto con l'aggressività. Cioè in un rapporto sessuale, tra virgolette, dovrebbe esserci aggressività. Questo lo dimostrerebbe quel grosso filone di tendenza cosiddetto sadomasochistico, laddove c'è una specie di piacere nel dolore e nella sofferenza, nell'aggressione dell'altro. Anche per l'uomo rispetto all'aggressione della donna, la quale domina. Tanto per non essere nella solita manfrina dell'uomo cattivo, ci sono anche gli uomini che vogliono essere dominati. La confusione è tra il rapporto sessuale e l'aggressività, cioè la violenza. Il rapporto sessuale viene intinto nel colore della violenza. E questa è una confusione mentale che va superata. Innanzitutto nel rapporto sessuale bisogna mettere l'accento sul rapporto. Se è un rapporto la violenza non deve avere un posto. L'aggressione non deve avere un posto. Il dominio, il controllo, il possesso non devono avere un posto. È evidente per tutti e per chi non lo è farebbe bene a recretarsi. Noi abbiamo delle tendenze relazionali al cui interno ci sono delle tendenze anche aggressive. Non solo di rapporto con l'altro e di accoglienza, ma c'è anche l'aggressione. Questa non va negata, ma va risolta. Basta con questa cultura buonista dove noi saremmo delle persone che non hanno nessuna tendenza aggressiva, che non provano rabbia, che non provano sentimenti ostili verso gli altri. Non è vero. Smettiamola di fare i buoni e piuttosto cerchiamo di elaborare la nostra rabbia. Perché siamo così arrabbiati verso gli altri? Per tornare alla cultura della violenza, è chiaro che c'è una grossa tensione al dominio, al controllo, al possesso. Stiamo parlando di rapporti sessuali e quanto spesso si parla di possesso. Mi ha posseduta o l'ho posseduta. Due osservazioni. La prima è che il possesso è per gli oggetti, non per le persone. La seconda osservazione è che possedere fa pensare al potere. È chiaro che l'aggressività ha qualcosa a che fare con il potere. Voglio avere potere su di te, quindi ti aggredisco. Ora, la potenza non è questa cosa. Il potere è di quelli che si ritengono onnipotenti. Pensate voi alle forme di potere che volete, anche quelle politiche. Si sentono tutti onnipotenti e poi diventano impotenti. Perdono le lezioni per stare nel nostro paragone, ma a tutti i livelli. Pensate ai rapporti di potere in campo aziendale. Che cosa rivelano tutte queste cose? Una forma di impotenza. Non ho paura di offendere nessuno. Gli stupendori sono degli impotenti, perché non hanno neanche idea di che cosa sia il potere. Pensano di essere onnipotenti, quindi di poter dominare una donna e la aggrediscono con violenza. Questo non è potere, ma questo bisogno di imporsi sull'altro non è solo maschile. Non cadiamo neanche in questa trappola. È trasversale uomini e donne. Pensate a quante coppie vivono di questo problema del controllarsi a vicenda e di gestire l'altro. Di possederlo. Le donne vogliono possedere anche loro. Il problema è affrontarla, riconoscerla e cercare di, in qualche modo, ingentirirla, per così dire. Risolverla, prendersene cura, negarla non serve. Viene confuso una parte del corpo, maschile e femminile, con tutto il rapporto tra persone. Anche Freud aveva capito solo in parte qualcosa. Capiva che c'era una pulsione, ma non capiva se era una pulsione relazionale o una pulsione di morte. Nella guerra è evidente la pulsione di morte, distruggere l'altro. Ma nel rapporto sessuale come la mettiamo? E quest'enigma qua non è mica stato risolto. C'è un'enigma nel rapporto sessuale perché si continua a mettere l'accento sulla parte, cioè sulla cosiddetta sessualità. E si dimentica il rapporto. Ora, se noi dimentichiamo il rapporto, è chiaro che c'è il dominio di una spinta aggressiva. Se dimentichiamo l'altro, uomo o donna che sia, tutto va in perversione, come dice la psicanalisi. Ovvero sia, vale tutto. Il dolore e il piacere vengono confusi come nei rapporti sadomasochistici, dove non ha ragione nessuno, né chi domina, né chi viene posseduto. Si tratta di oggetti. E' una manifestazione di un rapporto tra oggetti, dove né l'uno né l'altro hanno più un vero principio di piacere. Confondono piacere e dolore, confondono la parte per il tutto. C'è una grossa confusione intorno a questo. Ritorniamo sul rapporto, pensaci.